Non si rassegna l'idea di essere stato lasciato e per mesi ha perseguitato la ex compagna e il suo nuovo convivente con appostamenti, pedinamenti ed esplicite minacce di morte. Non contento ha diffuso tramite Whatsapp immagini a contenuto sessualmente esplicito della donna, accompagnandole con posto in cui si vantava della relazione avuta con la stessa. Un 54enne di Ariano Irpino è stato denunciato per atti persecutori e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. Nei suoi confronti è stata anche applicata la misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una giovane donna di nazionalità ucraina, e il divieto di comunicare con lei mediante qualsiasi mezzo. Le indagini, cominciate nel 2020 su denuncia della vittima, sono state coordinate dalla procura di Benevento e affidate agli oggetti del commissariato di polizia di Ariano Irpino, che hanno trovato conferma nella valutazione del GIP dello stesso tribunale che ha emesso il provvedimento di allontanamento.